Ciao Vivians e benvenuti in questo nuovo video haul Come vi avevo già annunciato in un post sulla community di Youtube Questo mese mi riposo un po' quindi usciranno meno video Ma in compenso faccio delle live su Twitch di vario genere In cui magari vi parlo di qualche libro che ho letto Oppure guardiamo qualcosa, reagiamo a qualcosa, qualche programma insieme Nell'ultima live che ho fatto su Twitch sceglievo i vestiti per il prossimo video haul di Shein Sono un paio di libri sul Medioevo che ho letto un po' di tempo fa e volevo parlarne con voi Quindi se vi fa piacere seguitemi su Twitch, vi lascio il link in descrizione Quando sono in live avviso anche su Instagram Quindi se volete rimanere aggiornati seguitemi anche su Instagram Detto questo direi di andare subito a scartare il pacco che mi è arrivato da Shein Eccolo! Ta-da! Vi lascio in descrizione il codice sconto e il link degli abiti che andrò a provare Apriamo il primo pacchettino Una tutina di cotone Adesso vediamo l'etichetta ma sembra proprio cotone Ah no, 100% Ryan Però sembra proprio cotone Questa tutina mi piace abbastanza Devo mettere un punto qui Altrimenti si vede il reggiseno Il tessuto è fresco È comoda Quindi direi nel complesso approvata Secondo capo Questa volta bianco Un top Questo me lo ricordo Sembra carino Però è molto cortino No, questo secondo me è troppo corto per me Con il seno che ho Mi si accorcerà un sacco sulla pancia Cioè praticamente Mi farà Cioè starà proprio un po' più sotto del reggiseno Secondo me Questo top è molto carino Io pensavo che fosse corto Che mi arrivasse corto Invece no Come potete vedere è abbastanza lungo Arriva qua E mi piace molto E la cosa particolare Un po' strana È che qui in questa V Nella scollatura C'è un pezzetto di ferro Qui c'è un Dentro nel tessuto Hanno messo un pezzetto di ferro Che tiene questa V Ferma Rigida Non so se sia proprio necessaria Però È carino così Mi piacciono molto le spalline Poi che coprono il reggiseno Il materiale è di ottima qualità È un cotone Un po' elasticizzato Perfetto Andiamo avanti Ma qua non c'è Non manca la zip per aprire Devo rompere il sacchetto Perché non c'è la zip Cos'è? Sembra un Dovrebbe essere un vestitino Ma è cortissimo No cos'è? Una tutina? È un vestitino Estremamente corto Che sembra Secondo me un top per me Ed è un materiale Che non mi pare naturale E neanche simili naturale Ma no È una tutina Perché qua c'è il cavallo C'è 100% Ryan Ma questo Ryan Sembra poliestere E invece quello di prima Cotone Ma Pensavo che fosse più corta Questa tutina Cioè quando l'ho tirata fuori Mi sembrava minuscola Invece devo dire che non è male È molto leggera Molto Larga Svolazzante Comoda A me fa difetto un po' sul seno Qui mi si crea questo vuoto E se io tiro giù per toglierlo Vedete così non c'è più Però a me si vede troppo il reggiseno qua dietro Devo fare una penza così E niente Questo è il mio solito problema Lo sapete Però Poche di voi Ce l'avranno Quindi andate tranquille Che questa tutina è carina Il materiale sembra Un po' poliestere Perché è veramente liscio Però devo dire che è fresco Poi Questo non ha una bella consistenza È rubido È un vestito Giallo senape Magari voi lo vedete in un altro modo Ma è un color senape 100% cotone È un po' Un po' ruvidino Forse lavandolo si ammorbidirà Ha delle spalline carine Questo vestito è molto carino Però per il mio seno purtroppo non va bene Perché qui è tutto scoperto I bottoni tirano Ho cambiato reggiseno E con questo non si vede tanto il reggiseno qui su un lato Però tirano lo stesso Peccato perché mi piaceva come mi stava I bottoni sono veri Quindi se voi aprite qua Ve lo potete mettere come un soprabito E poi chiudere tutto È lungo fino al polpaccio Vi potete aprire lo spacco come volete a piacimento Per il resto è comodo È un po' ruvidino Quello che a me insomma non piace molto questo essere un po' ruvidino Poi non so magari lavandolo diventerà più morbido Questi so già che sono dei pantaloncini Della stessa stoffa Stesso colore Stessa stoffa Dei pantaloni lunghi che avevo preso in un altro video haul E mi erano piaciuti molto Sono in Ryan Ma è molto fresco proprio Come l'hanno trattato È un Ryan Veramente c'è liscio Fresco Cade Scivola proprio Infatti 100% Ryan E volevo anche i pantaloncini Non sembrano neanche cortissimi Questi pantaloncini sono fantastici Sono leggerissimi Comodissimi Hanno elastico in vita Non ci sono cerniere Purtroppo non hanno le tasche Questa è l'unica pecca Mi piacciono molto Come lunghezza Sono corti ma non troppo Poi potete un po' giostrarvela voi Alzando e abbassando la vita Ultimo capo Una cosa blu con le margheritine Allora il tessuto vi dico subito che è molto morbido Mi piace È un vestitino blu con le margheritine bianche È un blu più carino Da quello che mi pare in telecamera Ed è leggerissimo Questo vestito è il massimo della leggerezza E cioè praticamente Super arioso Però vedete che fa l'effetto Premamam Su chi come me ha tanto seno Proviamo a mettere una cinturina Adesso non fate caso Al colore della cinturina Che è la prima che ho provato Ecco con una cinturina È già tutta un'altra cosa Il tessuto è molto fresco Non ha cernieri Non ha bottoni Non ha niente Lo mettete su così E per questo video Alla è tutto Se il video vi è piaciuto Mettete un mi piace Scrivetemi un commento Su come vi sembrano i vestiti E se avete qualcosa da chiedere Per le taglie Io seguo sempre le tabelle Prendo un XL su Shein Ma non dalla sezione curvi Dalla sezione normale Per me è la taglia giusta Non è né troppo grande Né troppo piccola Però vedendo i commenti Vedo che tante Si lamentano Che le taglie sono troppo grandi Quindi voi fate affidamento Alle tabelle Vi ricordo di seguirmi Su Instagram Su Facebook Su Twitch soprattutto Trovate tutti i link In descrizione Buone vacanze E al prossimo video Ciao Ciao Sì Ariel Grazie Cioè devo Ecco è arrivata anche lei Saluta Ariel No Ariel no La gatta mi sta tirando I laccetti dei vestiti Aia Portate la via Come no Alla gatta mi sta tirando 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 Alla gatta mi sta tirando